Questo è il Rinas aeroporto di Tirana, questo è come si presenta, una struttura sicuramente nuova. Buongiorno amici, oggi siamo in viaggio, partiremo da Tirana e raggiungeremo Bari in aereo. Siamo appena arrivati al Rinas, l'aeroporto di Tirana. Adesso ve lo faccio vedere. Entriamo insieme nell'aeroporto. Abbiamo i locali, la caffetteria. Questi sono gli shop dei prodotti albanesi. Questa è il girale all'alto, piccole montagne. Siamo appena arrivati a Bari. Stiamo per azzerrare. Siamo arrivati a Bari, questo è l'aeroporto di Bari. Poi ci rivediamo in Albania, ci rivediamo a Tirana e fatelo con Alba Marea.